Amici telespettatori, grazie come ogni serata della vostra presenza a fatti e commenti. Quest'oggi parleremo di un evento, di un fatto particolarmente importante, della cultura. Vale a dire, Pierpaolo Pasolini si ricorda proprio in questi giorni l'anniversario della morte. Pierpaolo Pasolini, come sapete, come intellettuale, come regista, ha lasciato nella nostra terra diverse testimonianze, oltre che di cinema. Pensiamo a Uccellacci e Uccellini, appunto, girato a Tuscania. Poi abbiamo Vangelo secondo Matteo, girato appunto a Chia. E in particolare, qui ad Orte, il documentario dedicato alla forma della città, quindi all'ambiente e alla cultura popolare. Ecco, parleremo dell'opera di Pierpaolo Pasolini. Vedremo poi in una forma particolare, vale a dire attraverso una fiabba da lui scritta, con, appunto, Ilaria Passeri, che è regista appunto della compagnia Roccaltia Musica Teatro di Chia. Grazie, dottoressa. Grazie a voi. E con Mario Umberto Carosi, attore appunto della compagnia Roccaltia. Grazie, grazie a te. Ecco, io partirei subito da Mario Umberto Carosi. Un inquadramento, ecco, dell'attività di questa vostra compagnia, che lo ricordiamo, ha messo in scena proprio il primo di novembre al Cine Auditorium di Orte Scalo, la rappresentazione appunto della fiabba, i fanciulli e gli elfi. Ecco, qual è un po' l'ispirazione che vi ha portato a mettere in scena questa fiabba? La nostra compagnia, tre anni fa, ha avuto la fortuna di imbattersi in questo testo, grazie all'amicizia che abbiamo con Graziella Chiarcossi, che è l'erede di Per Paolo Pasolini. e lei ci ha conosciuto durante gli spettacoli che organizziamo a Chia d'estate, nella passeggiata al Chiaro di Luna, organizziamo tutti gli anni, quest'anno è arrivata la decima edizione, e ci ha conosciuto, ha visto il nostro lavoro e ci ha voluto fare dono di questo testo, che è un testo tutt'ora inedito in Italia, e infatti è stato pubblicato soltanto un piccolo stralcio di questo testo, ci ha dato il manoscritto, scritto per Paolo Pasolini, a mano, con le pochissime correzioni, e una ragazza della nostra compagnia, Antonella Saltazzieri, l'ha trascritto. Chiedo scusa, vorrei ricordare questa fiabba scritta nel 1944, quindi, se non vado a dire, intorno ai 20 anni, Sì, intorno ai 22 anni, di Pier Paolo Pasolini. Sì, quando lui era insegnante a Versuta, in una scuola un po' rimediata durante la guerra, lui ha messo in scena questo spettacolo, ha scritto e messo in scena questo spettacolo con i suoi allievi, dei ragazzi intorno alle medie, e anche lui prendeva parte allo spettacolo facendo la parte dell'orco. Noi ci siamo imbattuti in questo testo, Graziella ci ha chiesto di rappresentarlo e l'abbiamo messo in scena, e lo mettiamo in scena ormai da tre anni per i ragazzi delle scuole, di tutti gli ordini che abbiamo rappresentato per le elementari, per le medie, anche per le superiori, invitandole proprio nel castello, sotto la torre di Chia, dentro il castello, ed è un'esperienza fantastica per i ragazzi. Benissimo, ecco, alla regista Ilaria Passeri, sicuramente una domanda anche un pochino tecnica, vale a dire questa messa in scena, io ho assistito alla rappresentazione della fiabba, direi molto suggestiva, ma soprattutto molto diretta, ecco, ci vuole parlare appunto di questa esperienza, della vostra compagnia, e soprattutto il testo e il contenuto di questa fiabba, quello che si viene a trasmettere al pubblico, e lo ricordiamo non soltanto, diciamo, di ragazzi, ma soprattutto anche di adulti, sotto certi aspetti. Sì, quando noi l'abbiamo messo in scena, per la prima volta appunto dopo 68 anni, abbiamo cercato di attenirci, per le poche note di regia, che aveva scritto proprio Pasolini, di attenirci al più possibile all'originale, come poteva essere 68 anni fa, proprio quella prima rappresentazione. Quindi abbiamo anche oltre consultato delle fonti, e siamo andati anche a conoscere delle persone, tipo Nico Naldini, che è il cugino anche di Pasolini, nonché un scrittore, che interpretava il sole, facendogli proprio delle domande riguardo a quella rappresentazione. E il nostro intento era proprio di attenirci alle note appunto di regia, di costume, anche per il fatto che questo spettacolo era prima anticipato anche da un coro, proprio un coro di versuta. Tant'è vero che con Fabrizio Verzini, che è un maestro di coro e un musicista, talvolta in alcune occasioni cerchiamo appunto di anticipare, prima dello spettacolo, questo coro di canti proprio friulani. La storia è molto semplice, anche perché proprio come scrive Pasolini, il messaggio deve essere chiaro, diretto, semplice. Dobbiamo immaginare anche una piccola realtà rurale che può essere versuta, fatto anche per gli allievi, quindi il suo messaggio è un messaggio pedagogico innanzitutto. E tratta di due differenti ambienti, ossia chi viene della città e chi vive diciamo in un luogo legato più a una vita rurale, quindi a una vita più contadina, più selvaggia, più legata proprio alla natura. E ci sono questi due mondi che si vengono a incontrare attraverso gli occhi dei bambini, quindi abbiamo i bambini e abbiamo gli elfi e attraverso il gioco, il pianto, il canto c'è questo modo di conoscersi da questi due punti di vista differenti di scambiarsi due differenti tipi di educazione. E non c'è una morale nella quale si insegna che il mondo dei ragazzi è migliore del mondo legato a quello degli elfi, all'ambiente rurale. Ma si scopre che forse chi riceve amore, chi dà amore, sicuramente conduce una vita migliore. E l'unico che non cambia in questa prospettiva è chi non si mette in gioco, sia l'orco, e quindi non accetta l'ascolto, non accetta il fatto di ascoltare proprio chi è diverso da lui. Bene, ecco, con Mario Umberto Carosi, le attività future vostre, soprattutto anche nella città di Orte, sappiamo che c'è in programma una serie, una nutrita, diciamo, attività da qui alla fine dell'anno. Ecco, se ci vuoi illustrare un pochino queste iniziative che credo poi vadano anche in collaborazione con le scuole locali, con gli istituti locali. Sì, la rappresentazione dei fanciulli e gli elfi faceva parte di una rassegna, una rassegna per i ragazzi che prevede uno spettacolo al mese. Nel mese di ottobre abbiamo fatto uno spettacolo di trato dei Burattini, di una compagnia della Sabina, a novembre appunto il nostro spettacolo dei fanciulli e gli elfi, e invece a dicembre, il 12 dicembre, è previsto lo spettacolo di un clown romano e questi tre spettacoli sono i primi tre, la prima parte della rassegna che continuerà anche l'anno prossimo. Invece poi, a dicembre, sempre nel mese di dicembre, vogliamo organizzare insieme a Il Bersaglio, il giornale ortano e insieme ad Abbondio Zuppante una manifestazione che possa ricordare in toto per Paolo Pasolini e prevediamo di fare due incontri, uno con le scuole superiori e uno invece aperto a tutta la popolazione al cinema Alberini. Un incontro con le scuole potrebbe prevedere la progestione di un film, un dibattito, la lettura di alcuni testi più adatti ai ragazzi, per esempio presi da ragazzi di vita o altri, insomma. Mentre l'incontro per la popolazione potrebbe prevedere sicuramente la proiezione della forma della città, magari se è possibile l'incontro con qualche ortano che ha conosciuto Pasolini o che ha partecipato in diverso modo a quel cortometraggio e poi anche invece l'incontro con qualche scrittore che ha scritto qualcosa su Pasolini. Recentemente. Recentemente se ne stanno uscendo molti anche in occasione del quarantennale della morte, quindi insomma stiamo cercando anche anche grazie al Gorilla e all'alligatore che ci aiutano insomma a cercare di divulgare questo. Ecco, io per la cronaca vorrei ricordare proprio come già l'avete fatto voi questo cortometraggio diciamo Io e la forma della città che risale al 1974 e è come abbiamo poi anche noi messo in evidenza più volte di una straordinaria attualità soprattutto per quello pensate siamo nel 1974 della sensibilità verso il paesaggio verso il paesaggio lo skyline diciamo della città di Orte del centro storico di Orte e soprattutto della costruzione appunto di alcune realizzazioni edilizie che sono state addossate alla rupe stessa. Sappiamo poi che questo messaggio di Pasolini sappiamo che poi questo cortometraggio comprendeva anche le immagini di Sabaudia che era anche una città anche questa una città cara a Pasolini perché ci trascorreva appunto le vacanze estive e diciamo che sia la cultura popolare che viene poi data da Pasolini considerando la stradina di Ciotoli che precede appunto la porta San Cesario e quindi qui appunto c'è tutto un discorso molto importante sulla cultura popolare sulla cultura magari anonima però una cultura che viene appunto dalla stratificazione dei secoli diciamo per la cronaca che questo poi messaggio di Pasolini veramente molto bello e vorrei ricordare perché me l'ha raccontato di persona Arnulfo Crocoli che allora era assessore appunto del comune di Orte che ebbe questa avventura di accompagnare sotto certi aspetti anche Pasolini quando Pasolini appunto venne a Orte sappiamo che poi Pasolini frequentava molto questi luoghi lo ricordiamo anche nelle partite di calcio che svolgeva e soprattutto anche nel ruolo che ebbe insieme sicuramente ad altre figure amministrative e politiche nella promozione dell'Università della Tuscia vale a dire nel riconoscimento come Università Statale era priva un'Università privata dell'Università della Tuscia dicevamo molto importante che questo messaggio diciamo di programmazione urbanistica di tutela del territorio è stato poi ripreso da Filippo D'Averio in una trasmissione del 2009 dove appunto ha totalmente ripreso e valutato ciò che Pasolini aveva messo in evidenza già nel 1974 per Orte in questo caso ma diciamo anche in generale per tante città appunto cittadine che hanno avuto tutto sommato questo elemento diciamo di sovrapposizione tra elementi storici un'ultima domanda che volevo fare alla registra Ilaria Passeri la vostra integrazione con il territorio vale a dire la vostra compagnia direi che è molto legata diciamo ecco alla valorizzazione del territorio l'avete dimostrato anche nella vostra attività qui a Dorte ecco come si svolgerà lo dicevate anche nel borgo nel centro storico di Chia sì noi ci siamo veniamo tutti da diversi il comune di Soriano nel Cimino Chia il comune di Soriano nel Cimino noi veniamo ci siamo conosciuti grazie al gruppo archeologico di Roccaltia proprio perché il gruppo archeologico si interessa di valorizzare e tutelare l'ambiente il paesaggio quindi ci hanno invitato attraverso la passeggiata appunto al Chiaro di Luna che quest'anno ricorre il decimo anniversario di poter valorizzarlo attraverso degli spettacoli quindi sono degli spettacoli teatrali musicali itineranti che vengono fatti di notte e quindi si dà la possibilità anche di vedere con altri occhi ossia di entrare in un paesaggio notturno e vedere qual è il sito archeologico qual è l'ambiente che si offre allo spettatore e noi ci occupiamo anche di ora a gennaio l'inaugurazione di questo spazio legato al teatro all'interno proprio del burgo di Chia dove noi cercheremo di creare delle attività riguardo al teatro alla musica alla danza e non per questo da 5 anni anche all'interno della torre di Chia appartenuta a Pierpaolo Pasolini abbiamo promosso questo evento che si chiama il te alla torre suoni immagini parole però quest'anno la torre è in sicurezza e quindi abbiamo pensato perché non valorizzarlo anche in un territorio sempre all'interno di Chia però nel burgo ci tenevo anche prima a sottolineare invece riguardo allo spettacolo che rispetto all'originale invece ci sono proprio sono inserite proprio delle musiche originali ossia ci sono proprio di musicisti dal vivo e le musiche composte da Fabio Porroni che sono anche degli attori che interpretano il ruolo del sole della luna e del bosco ci tenevo insomma a sottolinearlo perché ecco forse rispetto all'originale è l'unica cosa che noi abbiamo messo di di nostro insomma iniziativa te penso bene io vi ringrazio e ricordo ecco anche per la cronaca che la regione Lazio ha stanziato attraverso poi la provincia di Viterbo anche dei fondi per ricordare adeguatamente Pierpaolo Pasolini e noi ci auguriamo poi avremo anche ospiti consiglieri regionali a cui poi domanderemo appunto queste informazioni importanti in particolare il consigliere presidente della commissione agricoltura Panunzi chiedo scusa lavori pubblici Panunzi e quindi avremo modo anche qui speriamo di valorizzare questa bella figura diciamo che ha anticipato un po' i tempi nell'ambito ecco della cultura ambientale e della tutela del territorio io ringrazio veramente di cuore la regista Ilaria Passeri e Mario Umberto Carosi attore della compagnia Roccaltia grazie ancora e buon lavoro a voi grazie grazie